L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Primo Levi si articola nei seguenti indirizzi. Liceo classico, corso base. Liceo scientifico, corso base, anche con opzione bilinguismo inglese tedesco. Liceo scientifico, opzione scienze applicate, anche con opzione bilinguismo inglese tedesco. Liceo scientifico sportivo. Il liceo Levi è una scuola che richiede a chi la frequenta anzitutto amore per lo studio, regolarità e costanza nell'applicazione. A volte il liceo può apparire difficile o addirittura esclusivo. Non è così. Il primo Levi, per le materie che caratterizzano il percorso didattico di ciascun studente, richiede piuttosto motivazione per l'apprendimento e la cultura, impegno intellettuale in classe e a casa, uno studio quotidiano regolare sistematico. Gli studenti crescono in un ambiente stimolante e ricco anche di iniziative di ricerca e di incontro. Diventano intellettualmente curiosi e aperti alle relazioni umane. L'esperienza conferma che gli iscritti al liceo Levi conseguono in genere il successo formativo perché si mostrano pronti a imparare ad imparare. Dimostrano disponibilità e capacità di ascolto. Hanno una buona padronanza della lingua italiana. Sanno operare con sicurezza con i numeri e sono in grado di eseguire calcoli aritmetici e di confrontare ed analizzare figure geometriche. Mostrano inoltre di avere interesse per il mondo scientifico e curiosità per l'esplorazione guidata del mondo circostante, naturale ed umano, e per l'osservazione dei fenomeni. Di saper collaborare con docenti e compagni e di essere in grado di far valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo nello stesso tempo quello degli altri, le responsabilità e regole che permettono la pacifica integrazione e la convivenza. Lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale, è proprio negli studi superiori ed il raggiungimento di una solida base di competenze risulta di conseguenza requisito fondamentale non solo per acquisire competenze sociali e civiche, ma per avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio corso di studi, sviluppando la capacità di imparare ed imparare per essere in grado di affrontare i rapidi mutamenti che caratterizzano la società. Competenza fondamentale, alla fine del percorso liceale, sarà la capacità di immaginare, progettare, sperimentare nuovi scenari culturali e di interpretare in modo critico la realtà. Allo stesso tempo il liceo Levi favorisce il collegamento con il mondo del lavoro, in riferimento al percorso di studio intrapreso, alle esigenze individuali e territoriali e alle proprie attitudini e abilità, facendo acquisire agli studenti competenze che garantiscano una metodologia fruibile in più direzioni, che si traduca in un fattore di arricchimento del vivere concreto per personalità autonome e consapevoli di sé, e fornisce le competenze necessarie ad affrontare qualsiasi corso universitario e a formare un cittadino europeo e consapevole, fornito di solidi orientamenti valoriali e cognitivi.